bene ragazzi video brevissimo velocissimo intanto voglio ringraziare tutti perché sono praticamente tre mesi che porto battaglia quindi veramente poco mi ero prefissato di arrivare a questa cifra a cui sono arrivato ora che 100 che potrà sembrare pochissimo ma per me sono sono molti perché comunque vedo che rimangono comunque 100 stabili da un paio di settimane e questo vuol dire che c'è gente che realmente mi segue quindi sono contento di questo vi ringrazio ancora premetto che non sono un player competitivo gioco per divertirmi mi piace giocare a questo gioco quindi ci dedico del tempo ripeto non solo un player competitivo gioco esclusivamente per divertirmi e niente ragazzi a parte questo vi ringrazio ancora per l'iscrizione per per chi mi continua a seguire perché comunque vedo che i follower appunto rimangono stabili e visto che ho raggiunto la cifra delle la cifra a tre numeri ovvero 100 100 iscritti che mi rimangono stabili da più o meno un paio di settimane ringraziandovi il primo che commenta da qua sotto che avrà il 2 fa attivo riceverà in omaggio il pacchetto giudizio finale del 2000 vbac quindi ragazzi il primo che commenta mi scrive il sotto gli mando l'amicizia e gli mando giù il pacchetto ragazzi come sempre frase di routine spero che il video vi sia stato utile bella